Si chiama Tundra Beach, la novità dell'estate 2018 a Sottomarina, prende il nome da questa fantastica macchina che nel giro di pochi secondi fa ghiacciare i bicchieri con i quali si servono le bibite, dalla birra all'immancabile prosecco. Un piccolo spettacolo utile a sanificare e a valorizzare i sapori. Tundra Beach è firmata a De Mori. Luigi e suo figlio Nicola sono i re della porchetta e del roast beef realizzati artigianalmente e questo è ovviamente uno dei cavalli di battaglia della cucina. Le specialità sono le piadine fatte sia con porchetta sia con roast beef, con carpaccio di pollo, il classico crudo e le verdure sono fatte tutte grigliate fresche di giornata e poi abbiamo anche lo stinco con le patate, abbiamo la costata, abbiamo le alette di pollo. Oltre all'immancabile cotoletta per i più piccoli, il tutto si può consumare sulla spiaggia o per asporto su prenotazione. Tundra Beach è aperto dal lunedì alla venerdì dalle 17 a luna e il sabato e la domenica dalle 9 a luna di notte.